l'anticipo sembra quasi prevedere il futuro giocata difensiva di grande spessore Kamada c'è spazio, c'è il tiro Moyer dice di no colpisce si, Nete un tiro incantevole che va Giorginho ottimo senso della posizione pericolo sventato questa potrebbe essere una delle loro ultime occasioni, passaggio filtratte per Nakata, Nakata delizioso che classe, che rete e raggiungono il pareggio servono il possesso, vogliono evitare rischi inutili c'è l'opportunità per il contropiede guadagna metri e trova bene il compagno conclusione sembrava finita e invece l'hanno ripresa per i capelli